Ok ragazzi e ragazze, è finito il pezzo limone, una poco ce ne sarò un altro, ma adesso a gentile l'inchiesta della nostra piccola moira da giardino, una canzone molto speciale. Oh no! Oh no! Siamo per Natale, non fare la mutata, se il mio occhio mi guarda il pantalone scaglia. Ed è spesso per Natale, un'amica tagliata, i piedi e i piedi guarda la mutata. Ti ho chiamato per Natale, l'ho ascoltato su mia salta, ora che sei tutta mia alba, adesso è una buona. Ti ho chiamato per Natale, l'ho ascoltato, l'ho ascoltato, l'ho ascoltato, l'ho ascoltato. No, scusate, è una buona. Ultima dichiarazione di Kurt, prima di setta che sono schiccati il merda del cazzo della maia degli angeli, del porca merda, verso ciò. Quindi, basta. Ma quella proesti, no? Buon corso! Oggi basta provare la planche, te ne? Grazie! Grazie! La scena duro! Non c'è questa sono la scuola! Ho! I riso questa! È una cosa che soppana. iscriviti al canto mi sentito la assa 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 ma ti devo rompere il coglione ho fatto male al corpo lo figlio senza volerlo allora c'è una piccola cosa che qualcuno di noi non ha capito che io mi sento sempre in dovera di rossare i coglioni quindi c'è non fatemi una colpa a questa funzione se io rossare i coglioni fine, se è il mio compito il mio compito è farlo spingare e rossare i coglioni va bene questo è il nani non si vede molto bene ecco adesso si vede questo è Kurt questa è la Moira questa è la Moira questa è la Evice ormai c'ha quella qua questo è Mattias questa è la Moira Ciao mamma, non sono io! 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 Non sono io! Ciao mamma, 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 non sono io!